Buonasera a tutti voglio ringraziare veramente tutti io ho fatto un'esperienza benissima ho lavorato molto insieme a tutti per farlo bello credo che ci siamo riusciti ringrazio veramente il sindaco di carri ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicino Mauro Torcevi, Luigi Pundu Valentina ne dimenticherò l'orchestra però è stata abbiamo fatto credetemi abbiamo fatto qualcosa di grande stasera e sono sicuro che è l'inizio di un premio al Cattol e di una Cagliari ancora più grande e internazionale grazie e soprattutto ringrazio tutti e pensate che i microfoni continuano a non funzionare ma voi sentite come se funzionassero pensate che genialità l'abbiamo fatto da sempre come dice Città Cozzetta a Sintini a Sintini che la stanno insieme però facciamo un bravo grazie 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 grazie